Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7 è la resegna politicamente scorrettissima della verità e vi ricordo che questa resegna potete seguirla in diretta per chi si sveglia molto presto, rimane online a questo punto da molto prima delle 7 sui principali canali social, sia quelli della verità, sia i miei personali twitter, facebook, instagram e poi grazie alla squadra della verità digitale viene anche riproposta in formato podcast che potete scaricare dal sito o dai social della verità o anche potete prenderla dalle principali piattaforme podcast, quindi spotify, google podcast, apple podcast, lo ripeto di tanto in tanto perché c'è una crescita significativa di coloro che ci seguono e quindi magari ogni giorno ci sono nuove persone che possono avere così contezza delle varie vie attraverso cui arrivare a seguirci. La resegna di oggi vive essenzialmente su tre temi, il primo assai preoccupante e doloroso per l'Italia, la riforma del patto di stabilità, ieri è un articolo di chi vi parla sulla verità e poi un approfondimento in questa stessa resegna, vi aveva purtroppo raccontato in anticipo quello che sarebbe successo e vi avevamo anticipato tutte le fregature della bozza Gentiloni, anche vi avevamo anticipato il tipo di narrazione che avrebbero cercato di imbastire, ma no tranquilli la Germania voleva una cosa ancora peggiore, quindi quella di Gentiloni è una mediazione, ma quale mediazione? È in realtà un meccanismo che ripropone i vecchi vincoli, sia pure mascherati sotto forma di accordo tra commissione e singolo paese, ma il piano quadriennale che può diventare di sette anni di rientro è un piano che di fatto riduce i margini di politica economica dei governi e oggi questa cosa ve la rispiega benissimo e a mio avviso l'articolo migliore che trovate oggi sui giornali è ancora la verità con Claudio Antonelli. Attenzione però perché qui le cose si biforcano, ci sono quelli che festeggiano, allora il foglio va direttamente a intervistare Dombrovskis e dice guarda com'è bella e in qualche caso le domande del foglio sono peggiori delle risposte di Dombrovskis. Così come pure Dombrovskis in coppia con Gentiloni stesso firma un intervento sul Sole 24 Ore e da questo punto di vista non resistiamo a raccontarvi una straordinaria battuta di Mauro Mellini, del compianto Mauro Mellini che ho inserito in uno dei miei libri, diceva il grande Mellini che le oche di Campidoglio in epoca romana starnazzavano per avvisare i romani dell'arrivo dei nemici. Il problema è che le nuove oche di Campidoglio starnazzano per festeggiare l'arrivo dei nemici e quindi c'è il festeggiamento sul foglio sul Sole 24 Ore ma non si sottraggono al clima di compiacimento domani vedremo il titolo e il pezzo di Giulia Merlo, il professor Giavazzi sul Corriere che a onor del vero non va tanto sul patto di stabilità ma comincia a dire che se i mercati rumoreggiano il governo deve interrogarsi e Repubblica con il commento di Bastasin. Ci sono invece molte voci critiche, abbiamo visto Antonelli sulla verità, vedremo Sallusti sul Libero, ma attenzione vedremo anche De Mattia sul Messaggero e la professoressa De Romanis sulla stampa che pure è un'euro lirica per tanti versi ma devo dire con onestà intellettuale oggi dice che le cose non vanno e che l'Italia non dovrebbe adeguarsi a questo. È invece un po' morbido a destra il giornale che parla di falchi sconfitti, insomma la nostra sensazione è che il giornale cada un po' nel tipo di narrazione suggerita dagli altri. Secondo tema l'Ucraina che oggi compare per due ragioni, in primo luogo per la telefonata di Xi a Zelensky, qualcuno confida nell'intervento cinese, qualcun altro è che si fa sul giornale e dice state attenti al timing, non c'è particolarmente da fidarsi. Ma c'è una seconda e dolorosa ragione per cui l'Ucraina è sui giornali di oggi è perché l'inviato di Repubblica a cui va un abbraccio, Zunino è stato colpito, per fortuna sta bene e può scrivere, purtroppo non sta più bene, è morto l'interprete ucraino che stava con lui. Racconta tutto questo l'interessato su Repubblica ma sono anche molto belli e affettuosi i pezzi di altri inviati, cito Biloslavo sul giornale e Semprini sulla stampa. Residui del 25 aprile, vedremo in versione combat la professoressa di Cesare sul fatto e vedremo anche il tentativo di agguato a Franco Cardini di cui tante volte non condividiamo le posizioni, però è veramente curioso il meccanismo. Uno prima viene convocato dalla Gruber e già subisce l'interrogatore della Gruber, poi risponde e poi gli si chiede di dimettersi dall'organizzazione di un evento a Genova. Alla Camera ha parlato ieri il Ministro Fitto sul PNRR e ovunque trovate pezzi che sono però più di cronaca che di analisi. L'analisi la facciamo noi nella nostra infinita miseria, molto bene e molto male però, molto bene se guardiamo ai singoli dettagli, il resoconto di Fitto è stato giudizioso su quello che si può fare, su quello che non si può fare, da questo punto di vista nulla da eccepire. Molto male però nell'approccio che è totalmente supino rispetto alla Commissione europea, cioè Fitto ripeteva di tanto in tanto poi comunque decide la Commissione europea. Ma il discorso è complesso, quando si affidano le cose ai democristiani finisce così. Però va anche detta la parte scrupolosa invece della ricognizione del Ministro. Terzo tema grosso della giornata, che succede al Partito Democratico? Allora è irresistibile il pezzo di Giorgio Ghandola sull'intervista di Ellie Schlein a Vogue con tanto di foto, la Schlein che ci fa sapere che è preoccupata del burnout, anche l'esaurimento dirlo in italiano non è chic, dirlo come burnout naturalmente fa molto più figo. E ci fa sapere la Schlein che c'è anche una consulente cromatica, quindi dice si veste male da sola? No, c'è anche chi la consiglia sull'abbinamento dei colori. Tanto però il Partito Democratico perde i pezzi. Ieri vi avevamo dato la notizia leggendo l'intervista a Repubblica del passaggio di Enrico Borghi, che è pure membro del Copasir, a Renzi. Con Renzi ieri Borghi ha tenuto una conferenza stampa, la cosa ha un ricasco pure sul terzo polo, perché attraverso l'adesione di Borghi Renzi avrebbe la possibilità di costruire un gruppo autonomo al Senato. E Calenda a quel punto che farà? Vedremo. C'è un tentativo di alcuni, Marianna Madia per un verso, Marco Meloni, Lettiano, di dire no, no, anche le componenti che teoricamente potrebbero essere più a disagio possono rimanere nel Partito Democratico. Attenzione a un paio di altre cose. Intervento da Sibilla Cumana, noi diremmo piuttosto da Paraguru, come sempre, di Paolo Mieli sul Corriere della Sera, mezzo mezzo, per metà di elogio a Schlein e per metà per dire che però nessuna delle persone nella tolda di comando del PD gli sembrano adeguate a costruire una strategia dell'opposizione. Morale, Mieli potrà dire alla Schlein, a Isto li ho difeso e potrà dire ai nemici della Schlein, a Isto ho detto che non sono in grado. Solita furbata. Ma attenzione perché sul Corriere della Sera compare anche un appello di una serie di personalità, tra le quali il professor De Masi per dire che PD e 5 Stelle devono darsi un percorso comune. Irresistibile Max del Papa su Italia oggi sul fatto che un tempo erano cantanti e giullari a andare alla corte dei politici, oggi, come dimostra il pellegrinaggio della Schlein a Casa Baglioni, avviene il contrario. Vedremo tutto questo e un sacco di segnalazioni conclusive. E l'attesa del primo maggio, la stampa è già pronta, vedremo, si prepara un programmone, uno spettacolo, scappar via, c'è da augurarsi che le lancette corrano veloci e che il 2 maggio arrivi presto. Incamminiamoci, le aperture, la verità, modello vaccini per tutti i farmaci, mercato unico e tempi d'esame più che dimezzati da 400 giorni a 80, cioè meno tutela per i consumatori e risparmi fino a 300 milioni di euro all'anno per le imprese e le autorità nazionali. E c'è il vincolo green, i medicinali dovranno essere biodegradabili, taglio medio e il nuovo patto di stabilità paralizza l'Italia. Restiamo sul versante destro, libero, guerra ai fannulloni, troppe ferie, San Giuliano obblighe dirigenti a lavorare a Ferragosto. Ma attenzione alla parte, diciamo, patto di stabilità, buon approfondimento di Sandro Iacometti, la sinistra europea frena il taglio delle tasse e editoriale molto duro di Alessandro Sallusti, partita truccata. E mezzo mezzo il giornale, il titolo è duro, l'Europa batte cassa. E poi però il sommario lascia un po' così, falchi sconfitti, flessibilità sulla riduzione del debito ma spese PNRR incluse nel deficit PIL. E poi però arriva la botta e per Roma significa una correzione tra 8 e 15 miliardi l'anno. Andiamo a vedere come la mette il tempo, zavorra europea, tutti i novi economici. Andiamo a vedere gli altri quotidiani. Allora il fatto quotidiano, qui c'è un fotomontaggio con Zelensky di profilo e Xi Jinping di profilo, entrambi al telefono, la goccia cinese di Xi sente Zelensky e spiazza, usa, e o è, è già, diciamo, in versione alla pechinese, il fatto quotidiano, spiragli di pace. Già vede che è tutto a posto, ci fanno sapere gli amici di Travaglio. Va bene, andiamo a vedere le altre aperture. Il messaggero, patto di stabilità stretta UE, sole 24 ore, patto di stabilità, le nuove regole UE per l'Italia correzione da 8-15 miliardi e anche il lettore del sole 24 ore dice, oh cazzo, qui ci stanno fregando, ma il sole con grande nonchalance pubblica in prima. L'intervento, firma Dombrovskis Gentiloni, un disegno all'altezza delle sfide del futuro. E quando c'è all'altezza delle sfide, diciamo, vuol dire che la supposta è di quelle proprio... I bambini, noi non siamo degli anni 50 e 60, ricorderanno il piramidone, che era un suppostone che veniva, diciamo, applicato per ogni esigenza e pare non fosse piacevole. Va bene, andiamo a vedere i tre maggiori. La stampa sotto la testata, Xi chiama Zelensky, ferito giornalista italiano. Titolo principale, nuovo patto UE, conto da 60 miliardi. Ma attenzione, sorpresa, qui è una sorpresa positiva. Professoressa De Romanis perché il governo deve votare no. Andiamo a vedere Repubblica che apre su se stessa e su Zunino salvo, purtroppo invece sull'interprete ucraino ucciso. Fuoco sui giornalisti, a Kerson, cecchini in azione contro l'inviato di Repubblica, Corrado Zunino rimasto ferito, ucciso il suo interprete. Molinari fa l'editoriale su questo, Zunino racconta la storia, di spalla Bastasin che invece è tutto contento del patto di stabilità. Il nuovo patto UE che serve all'Italia, vedi come se la supposta fa bene. E poi il Corriere della Sera, debito, le nuove regole UE e sotto la testata Xi chiama Zelensky dalla parte della pace e manda un delegato a Kiev, USA e Russia cauti. Così le principali aperture. Graffica di segnalazioni iniziali dalla verità, allora è Maddalena Loi che firma il pezzo di apertura sulle nuove regole di avallo ai farmaci e dice Loi attenzione perché si uno dice va tutto più veloce ma non è detto che questo sia più garantista dal punto di vista della salute dei pazienti. Mentre Alessandro Rico vi aggiorna sulla vicenda, forse una frenata, della nuova regolamentazione a proposito della pillola anticoncezionale. Irresistibile Giorgio Gandola sull'intervista della Schleina Vogue confessa di vestirsi consultando un armocromista e poi confessa di temere il burnout come vi dicevamo e dice irresistibilmente Gandola si esce da Vogue come da una pasticceria sopraffatti dalla vaniglia ed è garbato a parlare diciamo di vaniglia, dalla fuffa potremmo dire noi però insomma. Maurizio Belpietro che fa da par suo è un'osservazione che nella nostra infinita miseria facevamo qui ieri mattina e poi sui social e giustappone Belpietro è la questione dei bambini. Ci sono i bambini buoni e i bambini no. Quando i bambini a Piazza del Popolo applaudono la Meloni è subito sabato fascista. Quando i bambini a cuneo con bandierina annessa festeggiano Mattarella è il presidente che emozione scalda i cuori. Titolo della verità se c'è Mattarella la clac dei bimbi va bene. Claudio Antonelli vi spiega benissimo la questione del patto di stabilità e fa diciamo l'articolo a mio avviso più esplicativo. Diciamo il lettore della verità tra l'articolo di ieri di chi vi parla e l'articolo di oggi del vice direttore Antonelli arriva preparatissimo sull'impianto e sugli effetti con questa correzione che rischia di essere tra i 7 e i 15 miliardi l'anno senza che siano escluse le varie spese per investimenti nemmeno quelle per la difesa nemmeno il PNR. Insomma una fregatura notevole francamente. Camilla Conti sulle mosse della BCE che cerca di spargere ottimismo ma la Conti è giustamente scettica. Giraldo che ci dice piccolo segnale positivo i biocarburanti potranno essere utilizzati per gli aerei UE. Piccolo segno diciamo di incoraggiamento. Chi vi parla intervista il ministro dell'autonomia Calderoli suggeriremo di leggere questa intervista in cui Calderoli è davvero molto efficace molto efficace nello smontare le preoccupazioni contro il disegno di legge sull'autonomia. Le spiega molto bene. Anche una serie di prestazioni che oggi non sono garantite lo saranno regione per regione indipendentemente dal fatto che poi ogni singola regione chieda o non chieda di avvalersi dei nuovi profili di autonomia differenziata. Questa parte del ragionamento di Calderoli dovrebbe rassicurare i contrari. Per rassicurare quelli che invece vorrebbero correre più veloce dice Calderoli guarda che se a questo punto c'è un trasferimento diciamo di 100 ad una regione per lo svolgimento di determinate funzioni e le regioni spendono 80 e quei 20 possono essere utilizzati per ridurre le tasse regionali o per incrementare i servizi. Quindi diciamo Calderoli riesce a spiegare perché sia da destra che da sinistra sia da nord che da sud si potrebbe guardare senza preoccupazioni al percorso al quale sta lavorando. Borgonovo, pezzo assolutamente da leggere, bravo davvero Borgonovo perché è bruttissimo ciò che ha fatto ieri il professor Bassetti. C'è stato un orribile fatto di cronaca nera, un omicidio a Genova, un signore ha ucciso un altro uomo, da quanto si capisce le contestazioni erano due, il fatto che l'altro rifornisse di droga la compagna del primo e il fatto che ci fosse anche un elemento di gelosia, insomma una tragedia umana. E come si è risolta la questione? Dando all'uno del Novax e all'altro del fascista di Casa Pound. E già questo diciamo applicare a due esseri umani, due etichette, come allora perché non dirci che quadratifano, è surreale che a un assassino e a un assassinato si mettano solo due etichette per catalogarli e il professor Bassetti ci ha messo del suo rilanciando con un tweet dicendo hai visto l'assassino era un Novax e quindi eccetera. Paolo Del Debbio su Sala che ora fa gli annunci, il sindaco di Milano dice guarda il metro e ci sono i borseggiatori e dice Del Debbio benvenuto sulla terra manca solo che dica agli utenti e ora sono cazzi vostri. Fabio Amendolara su gli amici francesi che schierano altri gendarmi ai confini quindi più che mai dice noi gli immigrati che arrivano da voi non li vogliamo a fare i vostri e e e e boni castellane sul licenziamento da Fox News di Tucker Carlson colgo l'occasione per dire che di cose americane ci occuperemo questa sera alle 19 con Stefano Graziosi. Ricominciamo il giro dalla questione del patto di stabilità e andiamo a vedere diciamo le aocche di Campidoglio che però diciamo schema Mellini non avvisano i romani dell'arrivo dei nemici ma starnazzano per festeggiare e accogliere con entusiasmo i nemici. Il foglio che intanto già esulta con David Carretta l'equilibrio del patto. Guarda come equilibrato la riforma conserva la visione del duo Macron. Guarda che gambe questa ragazza è una meraviglia. E poi Valentini intervista Dombrovskis. Questo patto accoglie le richieste italiane e ora avanti col mess. Un'altra supposta. Ma attenzione perché le domande sono peggiori delle risposte. C'è davvero fastidio? Comincia ad autoflagellarsi Valentini. Vanno davvero prese per quello che appaiono le dichiarazioni dei funzionari dell'Eurogruppo per i quali la mancata redifica del MES blocca qualsiasi discussione su nuove misure? Dombrovskis seduto dietro alla sua scrivania pesa bene le parole. Beh è fastidio. Diciamo che saremmo molto felici se finalmente il trattato venisse ratificato visto che introduce molti nuovi strumenti utili per potenziare il quadro generale delle regole finanziarie. Chissà come si dice in lettone ho una proposta che non potrai rifiutare. Va bene ma andiamo avanti e riprende a flagellarsi il giornalista del foglio. In Italia c'è chi protesterà per questo residuo di austerity. E Dombrovskis non ho ancora ricevuto riscontri dal governo italiano. So però che le richieste di Roma vertevano su una maggiore discrezionalità e un maggiore margine di manovra dei singoli stati membri nel definire il loro percorso di riduzione del debito. E quello elaborato dalla commissione è obiettivamente un sentiero molto più graduale e realistico di quanto non lo fosse quello finora in vigore che prevedeva il taglio di un ventesimo del debito pubblico annuo. E no attenzione quelle erano le norme. Manca solo che dica ma guarda che non ti tagliamo un orecchio. Va bene e anziché mandare direttamente a fanculo il commissario europeo naturalmente il giornalista ringrazia come sicuramente avranno ringraziato quelli del Sole 24 Ore che hanno l'opportunità di pubblicare l'intervento di Dombrovskis e Gentiloni nuove regole all'altezza delle sfide del futuro. Il pezzo parte in prima e gira pagina 3. Ci sono ancora diciamo tre soddisfatti di tutta questa operazione e sono su Repubblica Bastasin il nuovo patto UE che serve all'Italia, su domani il pezzo di Giulia Merlo, PNRR indilico e tensione sul MES, governo messo all'angolo dall'UE e in fondo anche il professor Giavazzi che non prende la questione dal lato del patto di stabilità ma critica comunque il governo che a suo avviso si deve fare già un po' di autoanalisi e di autocritica per le fibrillazioni sui mercati che a onor del vero sono più annunciate dai report di Goldman Sachs, dalle minacce di Moody's. I mercati stanno comprando benissimi titoli italiani però comincia la tarantella che ben conoscete. Ridare e costruire Fiucia spingendo sulla crescita. Prima di prendersela con la speculazione il governo dovrebbe riflettere su questo. Ecco ci permettiamo di dire con molta stima che forse al giornale non hanno percepito la pericolosità della sfida Marcello Zacche che la mette così una sfida epocale senza vittimismi. Ecco la sfida che il governo dovrebbe raccogliere senza credine nei confronti dei rigoristi con la sicurezza di saper dotare la nostra economia di queste nuove virtù. Le stesse che i governi delle ultime due legislature non sono riusciti a fare. Si pensa ai dati su crescita e produttività che ci vedono maglia nera d'Europa da tempi non sospetti. Questa diventa allora la vera sfida che attende il governo di centrodestra in un orizzonte temporale di lungo periodo che è poi quello che la Premier Meloni mette in conto di poter lasciare realmente un segno. Tutto passa dalle riforme che nessun governo è riuscito a condurre in porto in questo millennio. Riforme anche impopolari come quelle su servizi e concorrenze eccetera eccetera. E si ora che diciamo è comprensibile che ci sia chi dice ma guarda l'Italia è forte deve stare a testa alta e questo è un ragionamento assai condivisibile di Zacchè ma come fai a non vedere che qua ti incaprettano ti rimettono un cappio da tutte le parti e ti tolgono un margine annuo significativo che potevi usare per la riduzione di tasse. Questa cosa la coglie bene libero. Sandro Iacometti la sinistra europea frena il taglio delle tasse e dice proprio questo che del resto vi ha già spiegato Antonelli sulla verità ed è a mio avviso convincente la preoccupazione di Alessandro Sallusti. Diciamo le cose come stanno questa Unione europea certamente fino al rinnovo del suo Parlamento il prossimo anno è attrazione di sinistra e per quanto questa Italia di destra si stia dimostrando responsabile nel fare i compiti il sospetto che a Bruxelles qualcuno pensi di poter dare una mano ai compagni italiani beh per certi versi è più che fondato. Tenere sotto scacco il nostro governo impedendogli di fare le riforme promesse a partire da quella fiscale per partigianeria politica sarebbe come truccare le regole del gioco così l'allarme di Sallusti. E andiamo a vedere chi diciamo meno prevedibilmente rispetto a commentatori di centrodestra o vicini al centrodestra dice comunque guarda stai attento che questa cosa non è buona e oggi c'è Il fatto che da Berlino giungano proteste perché secondo la cancelleria con queste innovazioni il patto si indebolirebbe lascia basiti per l'irrilevanza delle argomentazioni. Anche per questo si fa strada con forza il sospetto che dietro il rigorismo della commissione si agiti una volontà ritorsiva nei confronti dell'Italia a causa della resistenza che il Perno Meloni affin qui opposto all'entrata in vigore del meccanismo europeo di stabilità senza le modifiche suggerite e senza un'adeguata contropartita sul fronte del debito comune. E quindi dice De Mattia va bene c'è una volontà ritorsiva. E udite udite la professoressa De Romanis perché il governo deve votare? No andiamo a vedere il commento della professoressa abbiamo selezionato un paio di passati. Eccolo qua. Tornando alla traiettoria tecnica stabilita da Bruxelles essa deve assicurare che il rapporto debito pil alla fine dei quattro anni scenda in modo virgolette plausibile. E qui veniamo alla criticità. Che cosa significhi plausibile in termini di taglia alla spesa verrà deciso dalla commissione caso per caso. I governi non potranno pertanto conoscere ex ante la velocità dell'aggiustamento richiesto. Una mancanza di trasparenza che non faciliterà né la definizione del piano né la comunicazione dal punto di vista politico. Un altro aspetto che resta ambiguo è quello relativo al grado di rischio. Nella prima versione della riforma gli stati membri venivano suddivisi in tre categorie di rischio corrispondenti a diversi livelli di debito sostanziale, moderato e basso. Nel testo pubblicato ieri non vi è un esplicito richiamo a questa suddivisione. La commissione fa semplicemente riferimento ai paesi che presentano rischi sostanziali senza specificare quali siano tra coloro che superano il 60%. Per loro è previsto che in caso di non rispetto del piano la procedura di disavanzo eccessiva scatti in maniera automatica. Tra questi vi sarebbe senza dubbio l'Italia e quindi vedete come la fregatura si manifesta in tutti i suoi aspetti. E io mi permetto di insistere proprio sul grande inganno, sulla grande mistificazione. Perché qual è la narrazione? Diceva beh, ma adesso c'è un dialogo tra commissione e governo per cui verrà fatto un vestito sartoriale, io direi un cappio sartoriale, ma questo è un altro discorso. Diceva però c'è un dialogo. Ma questa cosa qua di un opaco negoziato politico a questo punto, perché non ci sono regole, di un opaco negoziato tra Bruxelles e governi, è esattamente ciò che accade già adesso, con meccanismi di arbitrio, di discrezionalità assoluta, di trattamento benevolo nei confronti dei governi grediti e trattamento malevolo nei confronti dei governi sgrediti. Può funzionare questa cosa? A noi pare pericolosissima, oltre a rimettere una camicia troppo stretta all'economia europea, cioè esattamente nel momento in cui bisognerebbe mettersi le scarpe a ginnastica e correre, questi ti costringono di nuovo. Va bene, speriamo di avervi dato una serie di elementi per formarvi la vostra opinione, vi abbiamo letto gli entusiasti, vi abbiamo letto i critici, vi abbiamo lealmente detto che noi ci poniamo nettamente tra i critici, ma insomma, ora siete nelle condizioni di farvi la vostra opinione. Andiamo veloci sulla performance di Fitto alla Camera, trovate pezzi ovunque, il nostro giudizio ve l'abbiamo dato, molto bene e molto male, molto bene nel modo giudizioso con cui il Ministro ha spiegato, anche con realismo, cosa si può fare e cosa no, e tanto vale individuare subito quello che non si può fare e correggere i relativi progetti. Molto male però per l'atteggiamento complessivamente supino rispetto alla Commissione europea, cioè a ogni sette, otto minuti, Fitto ripete, poi Bruxelles decide e allora va bene. Il post 25 aprile, allora è in versione combat, la professoressa di Cesare sul fatto, immaginatela quando va da Floris già tutta incazzata prima che le diano la parola, qualcuno le deve aver detto che deve fare la faccia accigliata che fa molto antifascista consapevole. E esattamente questo atteggiamento sta oggi nella pagina dei commenti del fatto. Così la fascistizzazione dello Stato è già in atto. La russa, l'ollo brigida, piante dosi, val di tara, la fascistizzazione è in atto. E passa fra l'altro per il discredito gettato sulla resistenza a cui hanno contribuito quelli che nell'ultimo anno l'hanno attorto utilizzata per avallare la guerra d'Ucraina. Un paragone vergognoso che ha avuto e ha ripercussioni politiche devastanti. La di Cesare. Va bene. Nella morra della di Cesare, diciamo, com'è la cosa, no? Le cose della morra le conoscete, no? Chi prevalga tra carta, sasso, forbice, eccetera. Nella morra della di Cesare certamente il fascismo perde con tutti, ma anche la resistenza perde rispetto al putinismo. Il putinismo vince sempre nella morra della di Cesare. Ma non divaghiamo. Fa bene, Francesco Storace, su Libera, a mio avviso, accogliere le contraddizioni e l'imbarazzo televisivo. È accaduto a Speranza, a Ricci, quando qualcuno dice scusa ma quelli si devono dichiarare antifascisti, ma tu ti dichiari anticomunista e questi cominciano a sbarellare. Andiamo a vedere le pagine anche 12 e 13 del giornale che segnalano, un problema. Questo qua, Alberto Giannoni, pretendono che Giorgia si dichiari antifascista, ma la Schlein balbetta sul no al comunismo. E Stefano Zurlo, nella pagina accanto, il ventennio sempre ripudiato, ma ai compagni non basta mai. E ha ragione Marco Bertoncini su Italia oggi a dire ma qual è poi la colpa del centrodestra? Quella di vincere le elezioni. Non si sente una voce nel richiamare comunisti, ex comunisti, post comunisti a proclamare la verità su quel che si rivelò il comunismo. Quasi che di Lenin, Stalin, Brezhnev e vogliamo trascurare Togliatti si potesse pensare soltanto in termini elogiativi. Si metta la meloni l'anime in pace. Quale che fosse un gesto richiesto e da lei svolto per omaggiare le pressioni che i mezzi di comunicazione hanno esercitato su di lei, nessun avversario le verrebbe mai incontro. Così Bertoncini. E a testimonianza di questo clima vi segnalo come nel lotto Napoli secondo estratto, cioè il secondo estratto di De Luna, lo storico De Luna, che ieri compariva su Repubblica come intervistato. Oggi compare sulla stampa come commentatore e dice Meloni, il passato non si cancella, l'MSI non fu un traghetto per la democrazia. Occhio anche alla disavventura del professor Cardini che è stato convocato per un interrogatorio di quelli feroci dalla marescialla Gruber sulla Sette l'altra sera, venendo interrotto ogni quattro secondi, a un certo punto Cardini ha detto con un misto di pietà e anche di analisi storica serena, dice guarda che anche tra i repubblichini ci sono stati seri combattenti dalla parte sbagliata, ma insomma, apriti cielo, è successa l'ira di Dio. Ora si sono scatenati su una serie di altri accademici per dire che fa apologia di fascismo e che non si può più collaborare con Cardini alla organizzazione di non so quale evento a Genova e oggi Cardini viene azzannato alla gola da stampa e Repubblica. Noi che quasi mai siamo d'accordo con Cardini però oggi veramente gli esprimiamo un minimo di solidarietà perché insomma tu prima vieni convocato in televisione peraltro per sostenere una certa parte e venendo aggredito ogni tre per due. A un certo punto dici una cosa e il giorno dopo scattano le richieste di dimissioni verrebbe a dire chi è il fascista? Va bene, le questioni della sinistra. Allora Enrico Borghi che si sposta con Renzi e consentirà a Renzi di formare, se naturalmente i renziani lo vorranno un gruppo autonomo al senato, questo vuol dire che i calendiani se si consumasse lo strappo anche parlamentare finirebbero nel gruppo misto. Però il fatto di oggi è che cominciano ad andarsene una serie di esponenti, i cosiddetti riformisti, e questo dovrebbe essere un motivo di imbarazzo per la Schlein a cui però giungono un po' di soccorsi. Allora Marco Meloni che ricordavate come l'esecutore degli omicidi, quelli al momento della formazione delle liste di Enrico Letta, che aveva Meloni come esecutore materiale dell'esclusione delle liste, oggi si ripresenta come cattolico del PD. E viene sentito da Giovanna Vitale sulle Repubblici, il partito di Schlein è casa, anche per noi cattolici. E sul versante laico la medesima operazione la dovrebbe fare Marianna Madia, sentita da Niccolò Carratelli sulla stampa. Io sono riformista ma il resto la sfida va fatta da dentro. L'entrismo. Se non fossimo in epoca di politicamente corretto potremmo citare, ma è un modo di ricordare, un gidiante del pensiero che non c'è più, Lucio Colletti, che però se fosse vivo e rifacessi in un studio televisivo questo numero sarebbe espulso da tutte le televisioni del regno. Colletti, che nel 1994 fu eletto con Forza Italia, andò in una trasmissione di Santoro e c'era nel circo allestito da Santoro un'attrice, non ricordo se fosse Anna Canakis, che era lì convocata come persona non politica che però era naturalmente turbata dal governo Berlusconi. Nella drammaturgia santoriana serviva una figura apparentemente non politicizzata che dicesse oddio oddio signora mia e mi pare la Canakis o comunque l'attrice in questo dice ah io sento dentro, sento dentro, sento dentro e Colletti un certo punto diceva dentro dove? Silenzio in studio e immaginatevi se la cosa accadesse oggi. Va bene. Irresistibile Max del Papa su Italia Oggi che dice una volta gli istrioni canori si facevano ospitare dei politici. Adesso sono i politici, la Schlein, che vanno a casa dei cantanti, il caso Baglione. Ma attenzione alla grande paraculata di Paolo Mieli, che non cambia mai, e sempre no, la Sibilla Cumana in questo caso la Sibilla di Capalbio, il Sibillo di Capalbio. Mezzo editoriale per dire quante fighe ha la Schlein, mezzo editoriale per dire che però le cose non vanno bene. A due mesi dalle primarie che elevarono Ellie Schlein al vertice del PD si può tracciare un bilancio più che positivo dei 60 giorni trascorsi. Nei sondaggi il partito è tornato a collocarsi stabilmente sopra il 20% e ha lasciato il 5 stelle dietro di 5 punti. La nuova segreteria si mostra assai abile nel rintuzzare la maggioranza, producendo ogni giorno polemiche nuove di Zecca, talvolta anche due o tre in una giornata. Né i Dem si mostrano preoccupati delle insidiose iniziative provenienti da sinistra, neanche dai referendum contro le armi a Zelensky o l'assai pubblicizzata staffetta dell'umanità di Michele Santoro, eccetera. Un grande tonico per l'esordio di Schlein sono state le schermaglie delle settimane che hanno preceduto il 25 aprile. Tonico di qua, tonico di là, Mieli omette la sconfitta in Friuli di 35 punti, ma andiamo a guardare il capello. Ma questo è il messaggino da mandare alla Schlein, fotina della colonna di pregio, hai visto? T'ho difeso. Poi arriva la seconda fotina da mandare ai riformisti, magari a Renzi, eccetera. Guarda come li ho bastonati. L'attuale sinistra appare destrutturata come mai lo è stata nella sua lunga storia, ed è probabilmente questa circostanza che fa scivolare Schlein nei gorghi di nebbiose fumisterie che le consentono di affrontare in qualche modo l'imbarazzante situazione in cui viene a trovarsi chi deve pronunciare dei chiari sì o dei netti no, cosa per lei al momento impossibile. La costruzione di un fronte alternativo alla destra e competitivo con essa in caso di elezioni anticipate richiederebbe una sapienza e una lungimiranza a oggi non riscontrabili in nessuna delle persone preposte all'impresa. Quindi, Mieli 1, Schlein fichissima, tonica, non ha sbagliato un colpo, 60 giorni positivi, Mieli 2, nessuna delle persone preposte ha la sapienza e la lungimiranza necessarie per l'impresa. In ogni caso il Corriere della Sera pubblica a pagina 10 e vedrete che domani il fatto è... Maurizio De Giovanni, Domenico De Masi e Aldo Schiavone appello a Conte Schlein, trovate il coraggio di fare un passo condiviso, i tre intellettuali ai due leader, superate veti e corretti. Anziché cercare di separare le sorti del PD dal Movimento 5 Stelle, questi vogliono che il fronte si saldi sempre di più. Sul lato destro, allora, è solo il giornale con Adalberto Signore, pezzo molto ben costruito, a valorizzare una visita importante che oggi ci sarà. Giorgia Meloni andrà a Londra a incontrare il premier conservatore che ha un sacco di guai, i conservatori sono nei pasticci dopo 12 anni di governo, vanno molto male nei sondaggi, Shunak stesso è in una polemica pesante per le questioni, la moglie eccetera, ma soprattutto noi immaginiamo che in agenda ci sia la questione di immigrazione perché Shunak, che è di origini indiane, ha tentato una stretta sull'immigrazione irregolare che sta preoccupando moltissimo i britannici, ma attenzione, questa è la parte anche più... Shunak è sotto assedio anche per l'immigrazione regolare, perché pur avendo l'Inghilterra dei paletti molto seri, il flusso di immigrati regolari è soverchiante, nel 22 sono arrivate 600 mila persone e la cosa non si regge e quindi a mio avviso resta purtroppo probabile la sconfitta dei conservatori quando ci saranno le elezioni generali, ma le dimensioni della sconfitta, una sconfitta di misura o invece una catastrofe, dipenderanno proprio dal fatto, in primo luogo, se i conservatori riusciranno o non riusciranno a mettere una pezza all'ondata migratoria fuori controllo, sia quella irregolare sia quella regolare. La telefonata di Xi Jinping a Zelensky, diversi giornali la valorizzano, è molto entusiasta il fatto, è molto entusiasta il manifesto, più scettico Roberto Fabri sul giornale. La vicenda, ha rischiato letteralmente la pelle, Corrado Zunino, tanti auguri e un grande abbraccio, e invece l'ha persa la pelle l'interprete ucraino che era con lui, racconta tutto questo Zunino stesso su Repubblica, con editoriale di Molinari, sono anche molto belli e affettuosi i pezzi di altri inviati che conoscono quei rischi, Fausto Biloslavo sul giornale e Francesco Semprini sulla stampa. Altre due cose da segnalare, una per dare manforte a una giusta battaglia liberale, quella del Presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa che interviene a pagina 7 di Italia oggi e fa un ragionamento che fila perfettamente, diceva scusate voi volete incoraggiare gli affitti lunghi rispetto agli affitti brevi e allora anziché massacrare gli affitti brevi fate un favore fiscale per gli affitti lunghi e lo spiega molto bene su Italia oggi, speriamo che il governo comprenda. Ci sono state dichiarazioni così così del Ministro Santanchè che peraltro oggi incontrerà una delegazione dei sindaci dove sono scatenati il sindaco di Firenze Verdella ma anche il sindaco di Venezia Brugnaro che ha rilasciato delle dichiarazioni venezuelane contro i proprietari. Una roba pazzesca. Oh ma direte voi ma oggi siamo al 27 aprile, il primo maggio, nelle cucine si lavora e vi anticipa questo programmone, la pagina della cultura della stampa. Allora ha testimonianza che insomma c'è una dura lotta per i diritti dei lavoratori, c'è la foto della cantante Levante con la panza, una foto che testimonia l'impegno dell'artista diciamo. Levante, il primo maggio, cantiamo per i diritti, credo nella forza della musica. 8 ore di concerto, 40 artisti, Emma, Lazza, Levante, Tananai, Comacose, Mr. Rain, Ariete, Baustel, Rocco Hunt, Francesco Gabbani. Si sta trattando per avere Liga Bue, me coglioni. Previsti pure degli interventi verbali su temi non meglio precisati o legati ai diritti dei lavoratori, aspetta che te lo rileggo perché questo è meraviglioso, previsti interventi verbali, quindi non a gesti, non a rutti, saranno interventi verbali, su temi non meglio precisati legati ai diritti dei lavoratori. E a chi chiede se si temano scandali come quelli sanremesi, il direttore del Prime Time Rai Stefano Coletta spiega che il tema è scelto dai tre sindacati ed è importante che sia così, non c'è alcuna volontà di politicizzazione, no, non sia mai. Detto questo, altro discorso sono gli imprevisti, essendo una diretta li può gestire solo una persona, ossia il conduttore. In bocca al lupo ai presentatori Ambra Angiolini, un'abitue affiancata da Fabrizio Biggio, rivelazione accanto a Fiorelli, in viva Radio 2. A proposito di Radio Rai, noi qui mandiamo sempre i saluti a Pablo, voi lo conoscete il palinsesto di Radio 1, no, in particolare? Se comincia con Pablo, se prosegue con Zanchini. Poi arrivano Marianna Aprile e Bottura, l'Aprile che fa, che ovvio è questa destra? Poi c'è la rubrica di libri con di tanto in tanto la moglie di Michele Serra che dice io sto leggendo, voi siete tutti ignoranti, eccetera. Poi arriva, come si chiama, un giorno da pecora. Insomma, se finisce la sera con loquenzi, è tutto un palinsesto che calci a tutti i livelli per gli ascoltatori non comunisti. Ieri sono riusciti a fare un capolavoro pure sui social, perché a un certo punto sull'account di Radio 1 è stata messa senza commento la cosa di Meloni e degli altri ministri con i manifesti a testa in giù. E, so, sull'account della Rai ci si aspettava che ci fosse anche una reazione, un botte in risposta, un contrattore. Si è incazzato, è ben svegliato, Roberto Sergio, che ora è impredicato di diventare superdirettore di Radio 1, ma che avrebbe già le funzioni di coordinamento che ha giustamente rimproverato a Andrea Vianello, all'attuale direttore, questa grave svista. Però, con tutto il rispetto, caro Roberto Sergio, hai ragione da vendere in questa circostanza, ma te svegli adesso nell'imminenza delle nomine. E tutto quello che è avvenuto in questi anni, e il palinsesto di questi anni, e le blacklist, e i palinsesti a senso unico, ce ne accorgiamo il 27 aprile. Vabbè, meglio che ci fermiamo qui. Finisce qui la puntata della Verità alle 7 di stamattina. Ci ritroviamo alle 19 questa sera con Stefano Graziosi. Buona giornata a tutti. Non dimenticate, se volete, di prendere la Verità e, se non l'avete preso ieri, anche Panorama. Buona giornata.